se vi piace la natura allora probabilmente sarete anche appassionati di campeggio mentre un tempo le tende dedicate erano molto più spartane e anche difficili da montare al giorno d'oggi il mercato propone soluzioni sempre più innovative e confortevoli ma soprattutto semplici da installare anche per i principianti se vi piace questo tipo di escursioni allora dovreste dare un'occhiata a queste 10 tende da campeggio incredibili prima di iniziare non dimenticare di iscriverti e attivare le notifiche per non perdere i futuri video del canale numero 10 flying tent questa particolare tenda può essere utilizzata su qualsiasi superficie ed in modo molto flessibile a seconda delle condizioni del terreno può essere fissata come amaca tra due alberi come tenda da bivacco per una persona sul terreno piuttosto che come poncio per ripararsi qualora si venisse sorpresi dalla pioggia è possibile renderla comoda in luoghi eccezionali in zone ripide su terreni freddi o umidi lungo i fiumi piuttosto che in una foresta all'interno della flying tent sarete al sicuro dagli insetti dato che la zanzaria integrata mantiene fuori i fastidiosi disturbatori se non avete bisogno della copertura antipioggia e della zanzariera potete semplicemente toglierle entrambe e godervi l'oggetto come una semplice amaca numero 9 aim planet cave tent ciò che all'inizio si presenta come un sacco a pelo compatto da 2,5 kg è in realtà una comoda e funzionale tenda tutto quello che serve per l'installazione è una pompa d'aria speciale la struttura può ospitare dalle due alle tre persone e costa circa 600 euro l'installazione impiega esattamente 60 secondi e basta solo azionare la pompa dell'aria per far sì che la tenda si monti automaticamente grazie a questo sistema infatti non ha bisogno di alcuna conoscenza particolare nel montaggio di oggetti simili il che lo rende molto comodo soprattutto per i principianti numero 8 nano cure tent imperial motion è la società che ha ideato una delle tende più tecnologicamente avanzate si chiama nano cure tent e secondo i suoi progettisti è la prima tenda in grado di auto ripararsi al mondo la tenda è realizzata in ripstop nylon un tessuto intrecciato con una tecnica di rinforzo che lo rende resistente allo strappo e all'acqua con autosigillatura e capacità di riparazione infatti con il semplice calore delle dita piccoli fori e forature possono essere ripristinati questa tenda è molto leggera e possiede anche finestre per far circolare l'aria un parapioggia un baldacchino e un telone impermeabile alla base in modo da poter dormire facilmente sapendo che non ci sarà alcun filtraggio dell'umidità la capacità della struttura è di montare o smontare in modo da poter risparmiare tempo e godere il più possibile della natura è possibile acquistare questa tenda ad un prezzo di circa 200 euro numero 7 qui è cioè family 5.2 qui abbiamo una tenda ideale per viaggi di famiglia in quanto può ospitare fino a 5 persone è composta da due sezioni di diverse dimensioni nella prima può ospitare due persone e nell'altra tre vale la pena dire che in totale questa tenda offre 5 metri quadrati di spazio abitabile l'ingresso è dotato di una zanzariera inoltre ha due finestre e diverse tasche sulle pareti per riporre piccoli oggetti è adatta per tutti i tipi di viaggi anche quando le condizioni non sono delle più favorevoli in quanto protegge dalla luce solare è impermeabile e resistente a 20 di 50 chilometri orari il peso totale della struttura è di 16 kg ed ha un costo di circa 200 euro numero 6 i camper sky camp la tenda che vedete nelle immagini può essere installata in soli 60 secondi ed è in grado di ospitare quattro persone ma non è per niente economica dato che costa circa 3500 euro la sua caratteristica principale è che può essere montata sul tetto dell'auto come un normale portapacchi e la cosa è decisamente ottima se non si desidera condividere il letto con gli insetti presenti nel terreno al suo interno c'è lo spazio per un materasso matrimoniale e può ospitare comodamente una famiglia intera di due adulti e due bambini di questa speciale tenda ne vengono prodotti due modelli che si differenziano tra loro per il materiale di composizione la prima opzione è adatta per il campeggio in un clima caldo e la seconda proteggerà ottimamente dal gelo invernale sky camp può essere installato in quasi tutte le auto numero 5 tensile stingray questa è una tenda che permette di godersi il campeggio senza preoccuparsi di serpenti insetti o animali selvatici il produttore ne offre quattro diversi modelli con prezzi compresi tra i 300 e 1000 euro sono progettati per due o tre persone ma il produttore offre la possibilità di unire le tende per crearne una per famiglia che può ospitare ancora più persone l'installazione è semplice e veloce c'è solo bisogno di tre alberi o grandi rocce per sostenerla il telo superiore rimovibile protegge dall'acqua durante la pioggia quando il tempo è asciutto può essere fissato al pavimento aumentando lo spazio abitativo la superficie della tenda trasparente ti permette inoltre di guardare il cielo stellato mentre sei comunque protetto dal vento e dagli insetti numero 4 bubble tent questa tenda si distingue dalle altre per un sospetto abbastanza insolito bubble tent può costare dei 700 e 4500 euro a seconda del modello sono realizzate in materiale trasparente per godere pienamente delle bellezze della natura l'acquirente può scegliere il diametro della bolla che può essere di 4, 5 e 6 metri o se richiesto anche di più questa speciale tenda è fatta di un materiale resistente sia all'acqua che al fuoco e non lascia entrare a calda o fredda in modo che ci sia sempre presente al suo interno un microclima confortevole inoltre offre un sistema di illuminazione e di riscaldamento per massimizzare il comfort numero 3 onana onana è stata creata principalmente per le persone che amano frequentare eventi particolari come i festival musicali dove il problema principale è il caldo dovuto all'affollamento e alla zona generalmente non proprio montana ma questa tenda è in grado di risolvere facilmente la cosa dato che è realizzata in un materiale unico che riflette il calore e la luce rendendo il più confortabile possibile stare al suo interno il produttore afferma che a una temperatura dell'area di 25 gradi centigradi l'area all'interno di una tenda ordinaria viene riscaldata fino a 40 gradi nella tenda onana invece in condizioni simili non supererà i 27 gradi due finestre consentono una ventilazione ottimale e all'interno ci sono due ampie tasche per gli oggetti personali è possibile acquistare questa tenda per circa 170 euro numero 2 the crew a clan il produttore di questa serie di tende ha fatto sì che tutti possano scegliere un design che soddisfi perfettamente i loro bisogni e requisiti consiste di 11 tende con una capacità da 2 a 6 persone rispettivamente al costo che uscilla tra i 200 e i 2000 euro le tende di questa serie sono una sorta di sistema modulare con singoli pezzi interconnessi tra loro che forniscono fino a 25 metri quadrati di spazio vitale è realizzato in poliestere traspirante ed è coperto con un materiale esterno impermeabile resistente anche al fuoco che fornisce alla struttura isolamento termoacustico la tenda è estremamente leggera il che la rende facile da trasportare ed installare numero 1 camping cube questa struttura cubica porta la vita del campeggio ad un nuovo livello in quanto rappresenta una vera e propria casa portatile completa il cubo della società EZUP è l'ideale per il campeggio in famiglia la grande porta d'ingresso rende comodo entrare ed uscire le finestre sono ampie in modo da ottenere abbondante luce solare inoltre è anche presente un piccolo accesso sul lato per eventuali animali domestici se siete in viaggio con una batteria portatile potrete collegarla alla struttura in quanto è predisposta in modo da alimentare le spine interne che vi permetteranno di utilizzare oggetti come ventilatori, luci o qualsiasi altro apparecchio elettrico il peso totale della struttura è di 8 kg ed il suo prezzo si aggira intorno ai 250 euro è anche possibile acquistare moduli aggiuntivi per espandere la tenda vi piacerebbe provare una di queste fantastiche tende da campeggio? fatecelo sapere nei commenti qui sotto se il video ti è piaciuto lascia un like, condividilo e non dimenticare di iscriverti al canale grazie della visione